La soddisfazione è sicuramente tantissima, perché ce lo aspettavamo perché siamo consapevoli delle nostre capacità, ma sapevamo che era veramente tanto da facile. Adesso la cosa importante è soprattutto gestire le forze, perché non sono tante partite con poco tempo di recupero, e rimanere concentrate su quello che si può. Cercheremo di portare a casa il più possibile, perché comunque non abbiamo nulla da perdere, perché abbiamo bisogno da imparare e sperare di ottenere qualcosa di positivo. No, per essere finché non aspettavamo questo risultato, anzi abbiamo sbagliato antitiri. Loro sono stati bravi a mettere i palloni quando c'era bisogno, però questo è il primo passo, diciamo, ancora non è finito, quindi ci mancano ancora due partite. Dobbiamo ancora dare di più, sicuramente.